Il discorso nazionalista è incredibilmente adattabile, si adatta ai progetti politici più diversi. All'inizio dell'Ottocento nasce come un progetto politico eversivo e tendenzialmente costituzional democratico, poi diventa l'ufficial nazionalismo degli stati nazioni da metà l'Ottocento alla Grande Guerra, poi diventa l'elemento fondamentale di stati totalitari di destra, poi ritorna dentro un contesto democratico come quello a quale appartengono poi in definitiva i partiti di destra e non nazionalista oggi. La cosa che trovo affascinante è quasi senza cambiare le strutture simboliche di riferimento, queste strutture simboliche di riferimento si adattano ai progetti politici più diversi e questa è la cosa amicidiale del nazionalismo. Io sono Giuseppe La Terza e questo è Radar, un podcast degli editori La Terza. Radar è una serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo, ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità, rimettere ordine e orientarsi. La guerra in Ucraina ha riproposto in maniera drammatica un tema che era già molto presente negli ultimi decenni e negli ultimi anni, cioè quello della nazione. Pensiamo al fatto che Putin rivendica l'esistenza di un mondo russo, il Ruskimir, che comprende tutti i paesi slavi in cui si parla russo, tra cui l'Ucraina o almeno una sua parte, la parte orientale, mentre l'Ucraina a sua volta difende la propria autonomia in quanto nazione. Ma in realtà negli ultimi decenni la nazione come forma politica e ancora prima come costruzione culturale, ideologica, è tornata molto fortemente sulla scena, forse non ha mai abbandonata, ma ha ripreso un ruolo maggiore. Basta pensare al fatto che quasi tutti i leader autocratici, carismatici degli ultimi anni, hanno messo al proprio centro il discorso nazionale. Pensiamo a Trump negli Stati Uniti che diceva prima gli americani, ma in Europa Orban e così via tanti. C'è stata una crescita dei movimenti sovranisti che sono in qualche misura critici verso la globalizzazione o comunque sulla presa delle istituzioni sovranazionali. Insomma, il concetto di nazione ha una forza, ha ripreso una forza enorme e con conseguenze potenzialmente anche possibilmente drammatiche come nel caso dell'Ucraina e in generale delle guerre che dividono e contrappongono le nazioni. Però il concetto di nazione non è un concetto di oggi, è un concetto che affonda le sue radici nell'età moderna, diciamo. E quindi ci è sembrato importante e giusto ragionare in azione con uno storico, in particolare con lo storico italiano che più di altri, più di molti altri, si è dedicato a studiare le radici e lo sviluppo delle nazione con esiti molto originali rispetto alla concezione storica, ma non solo precedente. Alberto Banti ha pubblicato molti libri sul tema della nazione, la nazione nel risorgimento, l'onore della nazione sull'identità sessuale e violenza, il nazionalismo con Einaudi, poi con la terza, l'età contemporanea della grande guerra ad oggi, il risorgimento italiano e poi un libro che si chiama Sublime Madre Nostra, che è quello qui, cominceremo subito a fare riferimento. Intanto lo salutiamo. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao, ciao, salve. Iniziamo, entriamo subito partendo da Sublime Madre Nostra. Nel tuo libro, che è un libro molto divulgativo, peraltro con un linguaggio molto accessibile, in cui però riprendi i tuoi studi precedenti, parli di un inizio dell'idea di nazione in una gestazione tra 6 e 700 e la presa di questa idea tu la colleghi al fatto che c'è bisogno, come scrivi, di un termine sintetico ed efficace che definisca quelle masse senza nome che devono entrare in forma più o meno inattiva nell'arena del politico. Non è più il sovrano che giustifica, ma appunto è il popolo. E come si definisce questo popolo? Una delle cose fondamentali nella tua architettura concettuale è l'idea delle figure profonde, l'idea che ci sono delle figure che creano o che radicano il concetto di nazione, appunto. Ci vuoi dire inizialmente cosa sono? Perché questo poi ci aiuta a capire se quelle figure profonde rimangono nella storia o a loro volta come diranno una storia? Diciamo che sono delle costellazioni concettuali e simboliche che rendono il discorso nazionalista sin dall'inizio del XIX secolo particolarmente seducente, particolarmente attrattivo e diciamo è qualcosa che dobbiamo mettere in collegamento con le ragioni per le quali nasce il nazionalismo. L'idea di nazione, il termine nazione entra nel lessico del politico perché ci sono speakers politici, intellettuali, leader nel contesto delle rivoluzioni del tardi XVIII secolo che devono dare un nome al soggetto collettivo che possiede la sovranità, c'è un rovesciamento della sovranità, non la sovranità dall'alto verso il basso, ma la sovranità dal basso verso l'alto e questo basso è un soggetto collettivo e questo soggetto collettivo deve essere definito in modo sintetico, non è che uno tutte le volte deve dire perché c'è il rovesciamento e dal basso, allora come si fa a indicare questo soggetto collettivo? Si usano due parole nel contesto tanto della rivoluzione americana che di quella francese ma soprattutto di quella francese, popolo e nazione. Però una volta identificati questi due soggetti e soprattutto quello, il secondo, nazione che entra di più in circuito e poi bisogna dargli anche un contenuto specifico. E allora questo contenuto è diciamo costruito da una convergenza di produzioni intellettuali le più varie, parlano di speakers politici ma poi interviene diciamo il dream team dell'intellettualità dell'Europa romantica da Schiller a Byron a Manzoni a Dietz a Verdi a raccontare storie che evocano l'esistenza della nazione e lì entrano le figure profonde. Le figure profonde sono dei sistemi simbolici che esistono da molti secoli a volte e ne indico tre. Una è il concetto di genealogia o discendenza. È un concetto fondamentale in epoca medievale moderna per fondare il potere politico dei sovrani. E c'è un processo di nazionalizzazione del concetto di discendenza. I speakers nazionalisti cominciano a dire non solo i nobili, i sovrani hanno una discendenza ma tutti quelli che aspirano a esercitare la sovranità dal basso, tutto il popolo, tutta la nazione. Ed è un concetto complicato perché tira dentro le idee di parentela, di famiglia, i fratelli, le sorelle, poi il sangue, poi la stirpe e poi la razza, quindi un concetto molto denso. Poi un altro ancora, il concetto di sacrificio che è incessantemente utilizzato dagli speakers nazionalisti. Si deve essere pronti a morire per la patria, questo è un concetto che esiste sin dalla classicità romana, ma adesso è collegato alla nazione. Qualifica l'identità maschile nel modo più netto, essere pronti a morire combattendo per gli ideali nazionali e essere pronti a farsi martiri e qui c'è il cortocircuito con la tradizione della religione cristiana. E infine un terzo punto, l'onore. Il concetto d'onore era un concetto che apparteneva ai nobili, soprattutto dell'età medievale e moderna e anche qui c'è una sorta di nazionalizzazione di questo concetto. Di nuovo definisce il profilo della mascolinità. Un uomo è veramente un uomo, è degno di essere parte di una nazione se è capace di difendere il proprio onore, combattendo, mostrando coraggio e difendendo la virtù delle proprie donne. Qui entra in scena un'idea della comunità nazionale come comunità sessuata, che io quando ho studiato molti anni fa questi temi, diciamo, ne sono rimasto molto stupito, mette in campo delle narrazioni di stupro che sono diffusissime nelle storie, nei melodrammi, nei romanzi storici, nelle poesie del momento fondativo del nazionalismo. Noi uomini della nazione dobbiamo proteggere le nostre donne dall'aggressione del nemico e quindi dobbiamo intervenire contro i nemici che ci vogliono togliere la libertà, l'indipendenza, l'identità, ma anche vogliono attentare alle virtù delle nostre donne. Ecco, questa cosa qui, che in realtà adesso è rientrata in campo in modo molto forte, ma che, diciamo, se la decliniamo nella direzione dell'onore, sembra un insieme concettuale abbastanza esotico per noi, l'onore, in realtà è una cosa che poi fa scattare delle catene di pensiero molto forti e che comunque era, diciamo, un valore molto diffuso nell'Europa dell'inizio del XIX secolo. Ecco, ci hai spiegato in maniera molto chiara, devo dire, quali sono le caratteristiche fondanti del nazionalismo, poi magari ci torniamo, ma facciamo un salto. Oggi, quelle caratteristiche sono ancora vive? In che misura? Mettiamole alla prova, per esempio, del conflitto russo-ucraino. A me pareva, mentre tu descrivevi, di trovare molto eco di questi concetti ancora oggi, anche nel conflitto, anche nelle motivazioni, nelle pretese russe, ma anche in certi elementi della difesa ucraina da quelle pretese. Sbaglio? No, penso che tu veda bene, nel senso che ci sono almeno due declinazioni che sono molto evidentemente utilizzate su tutti i due fronti, ma molto da Zelensky o da altri speakers ucraini, l'idea dell'importanza del martirio e del sacrificio. Quindi far entrare una dimensione parasacrale nel discorso nazionale, e certo nel corso di una guerra, e in tutte le guerre che seguono la costruzione del discorso nazionalista, questo interviene. I nostri giovani, i nostri ragazzi sono eroici nella misura in cui sono pronti ad affrontare il martirio. E se muoiono ce li ricorderemo, perché sono martiri. E martire, nella tradizione cristiana, è un termine che indica chi dà testimonianza della propria fede. Noi oggi diremmo testimonianza della propria fede politica. Poi entra la concezione di genere che è propria a una visione classica del nazionalismo, cioè gli uomini combattono e le donne si occupano della riproduzione della comunità. Non voglio dire che non sia anche in una certa misura un dato di fatto, ma non è necessario che sia così. Certamente nel modo con il quale gli speakers ucraini si sono raccontati, o le speakers ucraine si sono raccontati, o i media occidentali hanno raccontato la guerra, soprattutto nei primi giorni, quest'idea degli uomini che andavano a combattere, anche volontari, anche civili. E questo flusso di donne che andavano tragicamente, drammaticamente a cercare protezione lontano con i bambini, fa scatenare una catena di immagini che appartengono al nazionalismo. E poi c'è naturalmente la questione degli stupri. Ora non è che la questione degli stupri sia un'invenzione. Sin da Omero, quando c'è una guerra e ci sono dei soldati che occupano dei territori o delle città, che aggrediscono i civili e compiono sfortunatamente anche stupri. Solo il punto che appartiene al nazionalismo è che gli stupri, nella specifica declinazione degli avversari nemici, aggrediscono le nostre donne. È una questione che è stata tematizzata solo da quando il nazionalismo l'ha messa al centro del suo valore simbolico. Fino alla metà dell'Ottocento che ci fossero degli stupri nelle guerre era come una calamità. c'è la peste, ci sono le carestie e ci sono anche gli stupri. Da lì in avanti, intanto nella guerra franco-prussiana, poi nelle guerre successive, in maniera quasi ossessiva durante la prima guerra mondiale e a seguire, questo tema diventa centrale. Quindi ci sono degli elementi che mi sembra rientrino in gioco potentemente nel modo attraverso il quale viene parlata, la guerra attualmente in corso. In realtà mi sembra che molti di questi temi siano presenti anche nella retorica patriottica, nazionalista, appunto anche dei movimenti cosiddetti sovranisti. Anche si disse mentre tu parlavi, mi viene in mente da noi Giorgia Meloni, come credola Le Pen, eccetera. Cioè un nazionalismo basato molto sulla tradizione, appunto sulla, come tu dicevi, sulla genealogia, sulla discendenza. Siamo italiani non perché abbiamo un progetto comune, ma perché discendiamo tutti dalla stessa tradizione, se non dallo stesso sangue o sbaglio. Sì, mi pare che ci sia questo elemento molto forte nei movimenti neonazionalisti, anche appunto in Italia, in Francia, in Germania, in Paesi Bassi, altrove. Lì diciamo sono, secondo me, formazioni politiche che nascono intorno alla tematizzazione del sovranismo, che è un'opportunità per questi gruppi politici di destra. Quando si forma una struttura politica sovranazionale com'è l'Unione Europea, alcuni piccoli partiti in origine vedono l'opportunità di una polemica, vedono l'opportunità di costruire, di identificare un nemico pericoloso in una struttura sovranazionale che sottrae appunto sovranità politica al contesto della nazione, quindi la capacità di autodeterminarsi. A partire da questo spunto iniziale, poi parte una dinamica di dialogo che leader come Salvini o come Giorgia Meloni o come Le Pen instaurano con l'archivio concettuale del nazionalismo classico. E allora si riprendono, magari a volte in una forma un po' più rustante, meno simbolicamente elaborata, però non di meno efficace questi simboli. Per dire, capita di sentire, in discorsi pubblici o in contesti di riunioni pubbliche anche molto importanti, manifestazioni del centrodestra italiano, una manifestazione a Milano delle destre europee, Salvini dire, intanto prima di italiani, che è uno slogan assolutamente possessivo e ci riconduce alla dimensione genealogica. Poi vedo lassù la Madonnina, era in Piazza del Duomo a Milano, la Madonnina che ci protegge e rientra in un modo un pochino più paesano, diciamo, la componente parareligiosa, che però è molto importante. Poi io ho sentito dire una frase che appunto non eravamo in un contesto come quello di oggi, sembrava un po' incongrua, ma appartiene all'immaginario nazionalista. Sono pronto a morire per voi, sono pronto a morire per i miei figli, sono pronto a morire per la patria. O la Meloni che, di nuovo poco tempo fa, nel contesto di un comizio fatto in pubblico, invocava il valore di Dio, patria e famiglia contro tutti coloro e poi ha detto chiaramente gli islamici che vorrebbero mettere in discussione le nostre identità, in questo caso l'identità religiosa, il presepe, ciò che più ci scalda il cuore, cercate di capirlo, diceva la Meloni, andate da un'altra parte se non volete condividere questi valori fondamentali. Quindi è un andare a ripescare all'indietro, a costruire un'identità attuale adesso all'inizio del ventonesimo secolo, ma andando a dialogare con un ricchissimo archivio simbolico che è proprio del nazionalismo. Ciò non toglie che di tanto in tanto ci siano anche dei restyling, degli aggiornamenti di questi sistemi valoriali. Ecco, scusami, a questo proposito facciamo una breve parentesi. Naturalmente questa tua idea e questa tua caratterizzazione del nazionalismo poi vede anche persone che hanno studiato il nazionalismo che ritengono che esista un nazionalismo tra virgolette buono, diciamo così. In particolare il nostro autore, lo ricordo, Maurizio Viroli ha scritto libri per amore della patria, l'ultimo sia nazionalisti e patrioti, in cui sostiene che c'è un nazionalismo, diciamo un patriottismo più che nazionalismo repubblicano che in personaggi come Mazzini può portare, come dire, a un esito di solidarietà e fratellanza anche con altri popoli, cosa che invece il nazionalismo tradizionale o quello diciamo più retrivo non ha. Mi sembra che su questo tu invece hai sempre avvertito che anche il patriottismo con i migliori intenti, insomma tu hai analizzato anche il patriottismo di Ciampi per dire, è a rischio, comporta dei rischi perché in qualche modo riporta appunto a quel dialogo di cui parlavi prima con il nazionalismo così come l'hai definito sbaglio. Sì, perché secondo me il patriottismo buono, il patriottismo democratico esiste solo in forma teorica. Ragionando da storico io non vedo nessun momento in cui si sia effettivamente esercitato, costituito, abbia avuto influenza questo patriottismo democratico, ma per una ragione molto semplice che l'idea di patria viene assorbita potentemente dentro il discorso nazional patriottico e dall'inizio dell'ottocento in poi distinguere da patria e nazione è praticamente impossibile. Quindi ogni volta che tu dici o fai un lavoro da illuminista radicale e dici l'unico patriottismo che mi interessa è il patriottismo della Costituzione, che è il discorso di Habermas. Quindi io prendo i valori della Costituzione e quelli sono. Ma se io comincio a aggiungere la storia, Dante Alighieri, i combattenti di Curtatone e Montanara, poi quelli che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale, poi il milite ignoto, lì vado automaticamente a finire dentro il contesto dell'archivio simbolico del nazionalismo che è molto più funzionale alle tradizioni politiche della destra, perché è un sistema concettuale che nega il cosmopolitismo, che tende a negare l'universalismo in ragione invece dell'identità specifica della comunità nazionale e lì parte poi tutta la catena di concetti anche pericolosi e inquietanti che si evocavano prima. Anche questo è molto chiaro quello che hai detto, però c'è una necessità alla base del concetto di nazione. Allora così come tu la descrivi all'inizio, l'ho detto un brevissimo frase presa da Sublime Madre Nostra, questa necessità sembra più avere rapporti con la fondazione dello Stato, nel senso che uno Stato monarchico si fonda sull'autorità del sovrano, che a sua volta può essere legittimata addirittura dal divino. Uno Stato che non ha sovrano deve fondare la sua autorità su un'altra cosa e quindi qualcosa che definisca, come tu dici, le masse, diciamo il popolo. Però c'è un'altra necessità, non c'è solo quella dello Stato, c'è la necessità di fare comunità. E qui c'è un altro nostro autore che tu ben conosci, che è Sigmund Bauman, che ha scritto molti libri su questo, ce n'è uno particolare del 2000 che si chiama Voglia di comunità, in cui Bauman analizza questa forse illusione, dice Bauman, in tempi di globalizzazione e individualismo, ma aspirazione fortissima a farsi comunità, a trovare un senso di comunità, perché la comunità ti protegge, la comunità ti mette al riparo, è un'illusione, ma ti mette al riparo dall'insicurezza insita nei nostri tempi, appunto, di globalizzazione in cui uno può perdere il posto di lavoro da un giorno all'altro perché magari un fondo di investimento sposta, diciamo, i suoi capitali da un luogo all'altro, è anonimamente, non c'è neanche più un padrone. Allora, la nazione può essere il modo in cui, ripeto, illusoriamente un russo si sente protetto rispetto, come dire, ai pericoli, la minaccia, diciamo, di una organizzazione che non controlla, perché tra i suoi pari, definiti come appunto pari nazionali, cioè che condividuano la sua identità nazionale, ecco, questo senso di protezione comunitaria da storico non credi che sia un elemento importante che giustifica anche la nazione che ne costituisce una delle fondazioni, dei motivi che la rendono ancora oggi attuale? Sì, sì, sono sicuro di sì, nel senso che il discorso nazionale è potentissimo nel dare la sensazione di appartenere a una comunità ed è tanto più potente quanto più costruisce dei sistemi simbolici che sono forti sul piano emotivo, emozionale, scatenano emozioni più che stare a sollecitare la razionalità e qui, come dire, l'economia di pensiero è molto maggiore che se io devo fare un'operazione del tipo, sostengo il patriottismo costituzionale, quindi andatevi a leggere la Costituzione e poi imparatevi i valori e cerchiamo tutti i giorni di rispettare quei valori e comincia a diventare uno sforzo pedagogico pazzesco, mentre se io lo metto sul terreno del siamo sempre stati italiani, basta che ci sia una partita della nazionale di calcio perché il meccanismo del io sono loro, siamo noi, sono quelli che sono in campo ma sono i miei rappresentanti, fanno parte di me e diciamo questo meccanismo di costruzione di una comunità poi si avvale anche di un'altra dinamica molto forte che è quella di andare a pescare simboli nel passato in modo selettivo e qui c'è un sistema scolastico che ha alimentato per tanti decenni una specie di banale nazionalismo nel suggerire che Dante è più vicino agli italiani e alle italiane di quanto non lo sia Shakespeare perché se tu vai in una qualunque scuola Dante prima o poi lo studi, se studi inglese studi anche Shakespeare forse, ma non con la stessa rilevanza, oppure trasmettere l'idea che Manzoni è più vicino di quanto non sia Tolstoi o Flaubert, Tolstoi quasi sicuramente è difficilissimo che venga studiato in modo sistematico e rigoroso nelle scuole, quindi ti si costruisce un sistema molto forte dal punto di vista delle connessioni rapide che si creano. Ecco ma tu hai detto una cosa molto, scusa se ti interrompo, hai detto una cosa fondamentale, la lingua. Uno degli elementi che noi diamo per assodati della nazionalità è la lingua ed è uno degli elementi, e su cui ti faccio una domanda, lo è? La vicenda ucraina sembra metterlo in dubbio perché continuamente si oscilla dicendo nel Donbass parlano russo, e dice vabbè ma che c'entra ma sono ucraini, perché gli ucraini parlano anche russo, quindi tutti gli ucraini sanno il russo, dice sì ma lì la parlano come prima lingua e allora non sono ucraini, e dice no ma invece sono ucraini e molti del Donbass sono contrari all'annessione, quindi in realtà è molto complicato, ecco tu storicamente come gioca, poi noi italiani lo sappiamo perché abbiamo comunità anche all'interno dei confini nazionali che hanno questo tema. Ma vale anche all'inverso, cioè diciamo la lingua è un market importante di nazionalità per gli intellettuali, e siccome sono gli intellettuali che fondano il discorso nazional patriottico, e nel caso italiano si vede bene, quando devono scegliere qual è la comunità nazionale di riferimento, all'inizio, tra fine 700 e inizio 800, quando ci sono degli intellettuali che vogliono ispirarsi all'esperienza della rivoluzione francese, oscillano molto, sarà la nazione piemontese? Sarà quella veneziana? Sarà quella napoletana? Foscolo oscilla fra la nazione veneziana e un'altra dimensione più grande, Vincenzo Cuoco che è un importante all'epoca intellettuale inizio 800, oscilla molto fra la nazione napoletana e qualcos'altro, però sono intellettuali, si esprimono con una lingua colta che è l'italiano, si sono formati leggendo una tradizione di studi teologici, filosofici o di produzione letterale e poetica e scelgono l'italiano, ma questo marker è un marker inesistente per l'Italia all'inizio 900, all'inverso, nel senso che chi parla italiano all'inizio del XIX secolo nella penisola italiana è essere ottimisti il 10% della popolazione, il 20% capisce l'italiano nelle comunicazioni quotidiane. Ma quelli non si sentono però, tu hai ragione nel senso che sono italiani per definizione come di Repubblica, però un piemontese che incontra un calabrese a fine 800 lo percepisce come un italiano? Io ho qualche dubbio, se non riescono a parlarsi. Sì, infatti ci sono un sacco di osservatori coeti, tra cui un bellissimo pezzo di Foscolo che dice se io prendo un contadino del Pavese e lo porto dall'altra parte, quello non capisce il suo collega, se lo portano nel tavoliere delle Puglie, quello non lo capisce perché l'italiano non lo parla, uno parla un dialetto con strutture lessicali e sintatiche completamente diverse da quello del dialetto dell'altro, non sanno parlare tra loro. Questo è anche, diciamo, l'aspetto secondo me realmente affascinante dell'esperienza risorgimentale, perché partendo con un handicap così forte, che non è solo italiano, perché questo problema c'è anche in Francia nell'Ottocento, non è che in Francia nelle campagne si parla francese, si capisce, mica tanto, è meno grave il problema che in Italia, ma c'è anche lì. Ecco, pur partendo con un handicap così forte, il movimento nazionalista ha un discorso talmente forte, talmente convincente, talmente esplosivo dal punto di vista emotivo che poi riesce a imporsi. E se dovessi dire di tutti i simboli che abbiamo presso in esame fino a ora, la lingua di gran lunga viene importante, nel senso che appunto non scalda particolarmente tanto il cuore, oppure ci sono paesi che parlano la stessa lingua e hanno identità nazionali differenti, come si ricordava prima proprio per il caso russo-ucraino. È l'altro terreno, il terreno del martirio, del sacrificio, della genealogia, della discendenza, del sangue, del ruolo diversi fra uomini e donne dentro la comunità, che è il grumo simbolico forte dal punto di vista comunicativo. Ecco, torniamo alla guerra. Abbiamo cominciato parlando della guerra in Ucraina, oggi esistono però nel mondo tante altre guerre, che sono spesso guerre che mettono in conflitto, se non nazioni identità, identità tribali, magari identità di tipo religioso. C'è un altro libro molto bello che noi abbiamo pubblicato qualche anno fa di Amartya Sen, un grande economista e anche filosofo, premio Nobel, che si chiamava Identità e violenza, in cui diceva ognuno di noi è costituito da tante identità. Ognuno di noi ha un'identità professionale, ha un'identità sessuale, ha un'identità in quanto gli piace un certo tipo di musica e magari va a sentire i concerti insieme ai suoi amici che gli piace quel genere musicale. Lo dico a te particolarmente perché forse non tutti sanno che Alberto Banti poi è un appassionato e studioso anche di musica, in musica anche in quanto elemento culturale. Ecco, dice Sen, scrive in quel libro, quando un'identità schiaccia le altre, diventa del tutto prevalente, può essere quella nazionale, quella religiosa o altre, si genera violenza. Ecco, non è che stiamo facendo un errore a escludere i musicisti russi dagli spettacoli europei, gli sportivi russi dalle competizioni, cioè non è che stiamo facendo esattamente quello che Amartya Sen critica nel libro quando dice si spinge la violenza, non stiamo dicendo a quei musicisti voi non avete un'alleanza con altri musicisti europei perché siete russi e quindi come russi vi escludiamo. Non avete un'identità in comune con altri sportivi perché siete russi. In qualche modo gli spingiamo, ovviamente non volontariamente, non consapevolmente, a essere parte di un conflitto violento. Sì, anch'io non trovo persuasiva questa idea di escludere musicisti o sportivi russi da manifestazioni che si tengono in Europa, ma perché il problema è che nel caso di un conflitto, di una guerra e anche della logica del nazionalismo entra in funzione un meccanismo che nel discorso scientifico poi si definisce come il sistema delle differenze, che tende a essere un sistema binario. Io appartengo a una comunità e questa comunità ha delle caratteristiche intrinseche e tu appartieni a un'altra comunità e sei diverso da me. E per ora sei buono, lì tranquillo e non sei minaccioso, ma potenzialmente sei minaccioso per il fatto di essere diverso da me. Ecco, se io strutturo il discorso su una trama concettuale così neoprimitiva, binaria, bianco, nero, buono, cattivo, elimino la complessità della personalità di ciascuno di noi. Ha sicuramente ragione Amartya Sena a dire che siamo tutti fatti e tutte fatte di identità plurali, di tante cose che ci strutturano. Però il discorso nazionalista, il discorso bellico, che è un discorso binario, semplifica tutto, cancella tutte le possibili diversità e mette gli uni davanti agli altri in modo primitivo, come se fosse un grado zero della concettualizzazione. E aggiungo, adesso entro più nel dibattito corrente, fortunatamente trovo che questo mantra c'è l'aggressore e c'è l'aggredito costruisce questo tipo di ragionamento perché non c'è dubbio che c'è un aggressore e c'è un aggredito per quanto riguarda la guerra Russia-Ucraina. Io non ho nessun dubbio nel non vedere nessuna qualità morale, nessuna ragione morale nell'aggressione della Russia all'Ucraina, ma se io semplifico il discorso, non penso che ci sia un prima, non penso che ci sia un durante, non penso che ci siano sfumature o cerco di capire meglio i profili complessivi che si stanno strutturando, ecco rischio di alimentare tensioni violente o pensieri o concettualizzazioni violente, mi pare una semplificazione non accettabile. Sì, quello che tu dici è talmente vero che in televisione, spesso in questi talk show concitati, si oscilla tra chi dice Putin è un criminale e chi dice no, non è un criminale, è un pazzo. Le due categorie, per carità, poi che ci sia un elemento di follia o di criminalità, di mancanza di scrupoli, credo nessuno fa fatica, però non è sufficiente questo a spiegare. E appunto uno degli elementi che ogni tanto vengono fuori è che esiste un sistema concettuale, esiste Putin, ha una ideologia che in parte è quella del patriarca Kirill che se la prende col gay pride, in parte affonda nella sua storia russa, insomma no? Credo che, diciamo, è importante capire come in questa soggettività però entri anche un elemento culturale. Questo credo che sia importante, devo dire, per Putin, ma anche nell'analisi, non so che ne pensi, della politica anche italiana, che spesso diventa troppo fondata sui caratteri del leader, come se fossero l'unico elemento importante. Sì, questo ci riporta al ragionamento che facevamo prima e nei dibattiti correnti trovo giusta sempre l'osservazione che però viene poi travolta delle persone che dicono, attenzione, cerchiamo di considerare che la Russia è comunque una società complessa, ha tante componenti al suo interno, non la si può schiacciare solo sul profilo di un leader e però entrano anche in circuito, secondo me, altri elementi, cioè la necessità dell'economia di tempo, che è anche economia di concettualizzazione che i media contemporanei impongono. Tu devi avere degli schemi semplici da trasmettere e uno schema semplice è dire noi e loro e se questo noi e loro viene riassunto in modo possibilmente efficace nella presenza dei leader, Zelensky da un lato, Putin dall'altro, è fatta in tutte e due le direzioni, non è che dico che sia una questione che riguarda solo l'Occidente, vale anche evidentemente al contrario, una semplificazione enorme come dire tutti gli Stati Uniti da parte di Putin sono i nostri nemici, è il simmetrico inverso. Ecco, ma come si concilia questo con il fatto che, e questo è un altro grande tema su cui vorrei chiederti una riflessione, che siamo un'epoca di grandi ondate migratorie, in cui l'immigrazione è parte costitutiva al nostro panorama, no? Cioè abbiamo parlato appunto di nazionalismo, abbiamo parlato di comunità, abbiamo parlato di identità. Ecco, noi siamo società in cui, è stato detto tante volte, è inevitabile che periodicamente arrivino persone da tante altre parti del mondo. Una dei temi più importanti dell'Ucraina sarà l'arrivo dei profughi, forse non ce ne rendiamo conto, ma ne arriveranno tantissimi, porranno un tema enorme di integrazione, integrazione scolastica, saranno bambini, donne. Ecco, a quel punto come impatta questo, secondo te, con l'idea di nazione? È possibile appunto immaginare un'idea di comunità più ampia che li integri? E su che cosa? Voglio dire, qui sappiamo che ci sono tanti modelli, c'è un modello francese che impone in qualche modo un'integrazione su uno standard nazionale, ci sono altri modelli che invece dicono si può convivere, però col rischio della separatezza, ci sono i quartieri ghetto, ogni quartiere ha la sua comunità che non si interfaccia con gli altri. Ecco, non sembrano due modelli tutti e due in assoluto vincenti, c'è un ruolo enorme della scuola ovviamente su questo. Tu da storico, guardando come in passato è avvenuta questa integrazione nei vari modelli, nei vari paesi, che riflessione puoi fare oggi, alla luce di quello che ci siamo detti? Intanto osserverei che i processi migratori in realtà devono essere identificati come uno degli elementi che ha potentemente alimentato la rinascita dei neonazionalismi. Negli anni 90 c'era una visione abbastanza ottimistica del futuro, il sistema sovietico era crollato, le democrazie si imponevano, c'era la globalizzazione, i flussi migratori, tutto ciò avrebbe sciolto le identità nazionali e nazionaliste. Questo era un discorso prevalente, contro il quale si è opposto un saggio meraviglioso del 92 e Benedict Anderson, che è stato di un'intelligenza veramente ammirevole, perché ha detto ma guardate che no, questi flussi migratori, lo diceva quando nessuno sosteneva questa tesi. Attenzione perché rilanciano il nazionalismo, anche perché i flussi migratori di oggi, diceva lui, hanno delle caratteristiche particolari, cioè sono flussi migratori che portano comunità di persone in paesi che li accolgono, ma le risorse tecnologiche attualmente a disposizione, la televisione e il telefono, diceva lui che scriveva nel 92, i social media dopo, incoraggiano le comunità ancora di più di quanto non sia avvenuto in precedenza, a conservare identità religiose, pratiche, aggregazioni comunitarie. E questo può, per quanto possa non piacerci, provocare delle reazioni ostili da parte di settori delle società che accolgono. E questo è ciò che è successo. Ricordiamo che il saggio che poi noi abbiamo ripreso si chiama Comunità immaginaria di Benedict Anderson. Sì, è un bellissimo libro fondamentale per studiare i nazionalismi e se non sbaglio questo saggio al quale faccio riferimento è compreso anche nell'edizione La Terza di Comunità immaginate di Benedict Anderson. Che aveva come sottotitolo, peraltro sto guardando adesso la copertina, si chiama Comunità immaginate, origini e fortuna dei nazionalismi. Sì, è una persona di straordinaria intelligenza che riesce a vedere uno sviluppo quando è stato nascenti ed è stato così. E infatti una parte delle retoriche dei partiti neonazionalisti hanno insistito a volte in modo sguaiato, a volte in modo più avvertito, ma su questo punto dobbiamo difendere le nostre identità qualunque esse siano, perché queste altre persone ce le mettono in discussione, poi queste persone mettono in discussione il posto di lavoro di voi che siete fragili, voi che avete condizioni economiche più deboli, non come i tecnocrati super ricchi di Bruxelles, Strasburgo e via andare con questo tipo di retorica. Quindi i flussi migratori secondo me sono stati che continuino ad essere una possibile risorsa retorica e comunicativa per i partiti neonazionalisti. Però esistono anche gli immigrati che si integrano e diventano anzi i principali fautori dei valori della comunità di arrivo. Sì, perché c'è il meccanismo per cui tu devi completamente cancellare la tua identità originaria e ti rovesci un ciò che negava te stesso originariamente, sì c'è anche questo processo qui. Sul meccanismo di integrazione, non so, però continuo a essere convinto che la scuola è uno strumento assolutamente fondamentale, però detto così non è che è un talismano che ci risolve tutto. Poi c'è il problema se la scuola debba insegnare un corpus di dottrine italiane oppure debba dire dato che nella mia classe c'è un terzo di bambini che vengono da altre comunità, devo insegnare anche le culture da cui questi provengono, che naturalmente complica il quadro enormemente. Sì, è chiaro, se io immagino delle scuole con dei programmi soprattutto nell'area delle scienze umane, della letteratura, impostati su una concezione ottocentesca, quindi se in Italia si studia prevalentemente la storia con un taglio centrato sull'Italia, la letteratura tutta centrata sull'Italia, se sei in Francia, centri il focus sulla Francia e così via, offri a bambine e bambini che vengono da altre esperienze, da altri paesi, una ben modesta accoglienza, le costringi a entrare dentro un altro spazio che può non essere loro. Quindi ci vorrebbe una grande discussione collettiva sui programmi, in particolare degli Humanities, che io da anni non vedo, ci sono state anche riforme recenti in Italia della scuola, su qualunque tipo di aspetto organizzativo possibile e immaginabile, ma non sui programmi. Invece penso che ci dovrebbe essere una riflessione collettiva sui programmi, tanto per svecchiarli in generale, e poi per renderli più inclusivi, da molti punti di vista, per chi viene da altri paesi, per chi ha le identità più varie. In parte la scuola lo fa naturalmente, però non abbastanza, credo. E appunto l'esempio francese è un esempio sul quale si deve riflettere, perché il sistema educativo francese è un sistema di primordine, tutto sommato, però non mi pare che abbia funzionato proprio benissimissimo nell'integrare persone che sono venute da ex colonie francesi dentro lo spazio della Repubblica. E al tempo stesso, appunto, il caso francese ci suggerisce che la presenza di persone considerate come estrane all'identità francese, che nella maniera più primitiva si riassume in nos ansettes, les gaulois, poi rilancia partiti forti come l'Assemblea nazionale. Quindi, diciamo, ci vorrebbe veramente una discussione una discussione collettiva che impegnasse educatori, educatrici, pedagogisti, ma anche intellettuali, studiosi, per un grande rinnovamento dei programmi scolastici. Sì, io credo che, naturalmente, in questa nostra conversazione abbiamo potuto solo accennare il tema, ma credo che anche solo questo accenno ci dice quanto è complicato questo tema, no? Quanto è difficile mettere la linea di confine. Voglio dire, se tu diventi professore a Oxford e ti dicono di mettere il gown, cioè il mantello nero che i professori si mettono, non credo che tu ti senti sminuito della tua identità italiana, pur considerando una cosa abbastanza buffa, non te lo metteresti normalmente. Ecco, e questo lo fai. Poi altre cose, invece, non le faresti o le riterresti inappropriate, non so come dire. Quindi c'è un'integrazione possibile, c'è un'integrazione che evolve nel tempo. Stabilire come e quando, appunto, dovrebbe essere l'oggetto di discussione molto più che il tema della sicurezza, che invece è stato in qualche modo imposto dai sovranisti come il tema dell'immigrazione. Però io vorrei chiudere la nostra conversazione su un altro aspetto molto rilevante, e cioè noi stiamo parlando ormai da un po' di tempo di nazionalismo, del ritorno dei nazionalismi in un'epoca caratterizzata dall'enorme diffusione della rete, di internet. Le comunicazioni avvengono attraverso la rete, tutto quello che riguarda, diciamo, la nostra vita quotidiana avviene attraverso la rete. Ieri parlavo con un giurista che è andato in una scuola qui a Roma a discutere il tema della guerra giusta, e a un certo punto mi sono reso conto che lui parlava della guerra giusta attraverso internet, perché è quella la dimensione più rilevante, lui mi diceva. Noi continuiamo a parlare di cararmati e di bombe, non ci rendiamo conto che oggi, attraverso internet, tu puoi far saltare un intero sistema di sicurezza, puoi far deragliare i treni e scontrarli, puoi mettere in crisi un apparato. Cioè noi non percepiamo che c'è una dimensione che è già da anni e fortissima. Questo per dire che abbiamo una rete mondiale, che in parte è governata naturalmente dagli stati, perché la Russia può decidere che non c'è accesso la Cina, e che però sembra essere una potente forza che dovrebbe contrastare i nazionalismi, invece non è così. O forse lo è, o forse rafforza invece con cosiddette bolle che ci sono nella rete, comunità, anche questo forse immaginato, immaginari e tutti quelli che la pensano allo stesso modo e che stanno nello stesso blog o nello stesso sito. Ecco, c'è un rapporto tra l'esplosione della rete, la diffusione della rete, internet con tutto quello che comporta, Facebook, i social e il fenomeno nazionalista? Si possono connettere in che modo secondo te? Intanto osserverei che persone come Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Marine Le Pen hanno usato i social media in modo sistematico, a volte anche dal loro punto di vista ovviamente in modo brillante, cioè dando delle comunicazioni semplici, immediate, molto emotive, molto su una notizia, rilanciandola, rielaborandola dal loro punto di vista e questo è un aspetto della rete. Un altro aspetto della rete che secondo me deve essere riconosciuto è che ci sono queste bolle relazionali e culturali, cioè ciascuno di noi tende a infilarsi in uno spazio specifico della rete, stai sul computer, navighi in rete, ma in realtà è come se tu stessi nel tuo coltive culturale vai a cercare le cose che ti interessano, dialoghi con le persone che ti danno ragione, grosso modo non ti va tanto di dialogare con le persone che hanno posizioni diverse e quindi ti chiudi dentro lo spazio. Questo secondo me è una peculiarità della rete che non è né a favore né contro il nazionalismo, nel senso che segmenta tanto l'identità, moltiplica le identità, quindi non lo vedrei specificamente come una struttura della rete che potenzi particolarmente un'identità piuttosto che un'altra. E poi sarò inguaribilmente ottimista, io continuo a pensare che però la rete è anche una grandissima risorsa positiva, ti può, ti dà la possibilità di informarti, nel senso che se ci sono siti sgangherati o se passi le giornate su Facebook certo ti impoverisci, ma ci sono dei siti meravigliosi che ti mettono a disposizione scannerizzazioni di giornali, riviste, libri, ti danno informazioni e il mio ottimismo è diventato dal fatto che quando vedo i miei studenti, le mie studentesse, se non tutti, ma insomma molti, al lavoro sulle loro tesi triennali e sulle loro tesi magistrali o quando dialogano nei seminari che organizziamo nei miei corsi, vedo che molti si muovono molto brillantemente nella rete per accogliere con intelligenza informazioni, per mettere in discussione anche le loro convinzioni. Quindi diciamo alla fine sono ambivalenti nei confronti della rete, vedo aspetti positivi e negativi, però ce ne vedo anche di positivi. Sì, ecco io pensavamo di chiudere con una domanda che però non ti farò, perché è una domanda troppo difficile per chiunque ma assolutamente scorretta per uno storico che era qual è il futuro del nazionalismo, ma in realtà te la faccio in un altro modo e cioè posto che tutto quello che abbiamo detto che tu ci hai raccontato dimostra la forza di questa idea, la forza di questo paradigma, diciamo di questa costruzione, che resiste a tutto, resiste appunto anche a fenomeni che sembrerebbero opporglisi. Può esistere una nazione mondiale, può esistere una nazione globale, può esistere un paradigma che ne raccoglie la risposta che questa idea dà un bisogno evidentemente, che permane e che però la trasferisce a un livello in cui non ci sia appunto noi e loro, in cui sia uno contro l'altro. Questo è un po' il tema che ricorre anche nell'ultimo libro di Bauman, che si chiama Retrotopia, in cui lui parla delle nazioni come un'utopia che guarda indietro, appunto un'utopia nostalgica. E la sua risposta è molto dubbiosa sulla possibilità di superare noi e loro, cioè superare il fatto che la nazione comporti un nemico o comunque un altro con cui confrontarsi. Perché oggi, se uno guarda la situazione in cui siamo, la pandemia, la guerra, dovrebbe dire, signori, posto che la globalizzazione è difficile da tornare indietro, dobbiamo pensare a una qualche struttura di governance globale che governi i conflitti e che ci faccia sentire più vicini, più simili, più, come dice Remotti, che è un altro che ha scritto molto sull'identità per noi, Francesco Remotti, un grande antrepologo, l'ultimo libro si chiama Somiglianze, in cui la sua idea è non siamo uguali ma siamo simili, lavoriamo su questo. Questa similitudine può portare a una nazione globale? Potrà mai portare a un'azione globale? Non so, da qualche parte ho letto che gli storici profetano solo il passato e sono abbastanza d'accordo con questa considerazione, tenderei a dire no, nel senso che non lo vedo, non vedo un processo, neanche inizi di processi che possano portare in quella direzione, non siamo neanche riusciti a costruire una identità europea, reale, un sistema mitografico e valoriale che ci faccia sentire tutti pienamente europei e continuiamo a ricadere invece dentro questo spazio dell'identità nazionale, quindi al momento non lo vedo. Aggiungo solo, ecco come commento ulteriore, che il discorso nazionalista è incredibilmente adattabile, cioè si adatta ai progetti politici più diversi. All'inizio dell'Ottocento nasce come un progetto politico eversivo e tendenzialmente costituzional democratico, poi diventa l'ufficial nazionalismo degli stati nazioni da metà ottocento alla grande guerra, poi diventa l'elemento fondamentale di stati totalitari di destra, poi ritorna dentro un contesto democratico come quello a quale appartengono poi in definitiva i partiti di destra e non nazionalista oggi. E la cosa che trovo affascinante è quasi senza cambiare le strutture simboliche di riferimento, cioè queste strutture simboliche di riferimento si adattano ai progetti politici più diversi e questa è la cosa amicidiale del nazionalismo, che fa sì che non ci abbia mollato dall'inizio dell'Ottocento a oggi. Bene, io ti volevo portare all'happy ending, ma giustamente avendo tu scritto Wonderland sulla cultura di massa e sul fatto che la cultura di massa si basa sull'happy ending, tu fai parte diciamo delle controculture che hanno sempre detto non necessariamente le cose finiscono bene, possono, appunto si può essere ottimisti ma non è un esito scontato. Bene, io ti ringrazio molto Alberto perché è stata veramente una conversazione nutriente su un tema appunto che come tu ci hai spiegato è come dire ha avuto una straordinaria persistenza, ci sono motivi per cui lo è ancora oggi appunto. Un tema di possiamo metterla così ecco che non è ottimismo ma non è appiendi, diciamo che il nazionalismo persiste, forse si può evitare che porti comunque sempre alle guerre, ecco si può avere un nazionalismo di convivenza con delle forme come dire di deterrenza non necessariamente armate, no? Sperabilmente sì. Ecco, grazie ancora e ci riaggiorniamo al prossimo Radar, al prossimo podcast degli editori La Terza. Grazie a te, a presto. Ciao. Avete ascoltato Radar, un podcast degli editori La Terza. Post-produzione e musica a cura di Matteo Portelli Grazie a te, a presto.